La roccia ha donato alle acque il salto di una impossibile cascata. Un uomo ha messo le ali al suo coraggio per vincerla. Jonathan. Domenica alle 22.30. Su Italiano. Jonathan è offerto da Michelin. Lui è bagnato. Lui è asciutto. Lei è bagnata. Lei invece è asciutta. La sua mamma usa ultra pampers. Guardate, i pannolini con fluff tradizionale assorbono il bagnato ma possono farlo tornare a contatto con la pelle. Così quando si bagnano possono restare bagnati. Gli ultra pampers invece assorbono il bagnato e lo imprigionano separandolo dalla pelle con il sigilla di P. E il bagnato non esce neanche se li strizzi. Così anche bagnati restano asciutti. Con ultra pampers. Asciutto il pancino. Asciutto le gambette. Asciutto il culetto. Ultra pampers. Anche bagnati. Restano asciutti. Un asciutto a prova di bacetto. Hey gang! Qui a Chattanooga, Tennessee. Final soliti spacco in quattro. Non si sbaglia. Lipton Ice Tea. Lipton Ice Tea. Fenomenale. Esce anche stasera. È carina. E ti fila. E lo sa chi è la forfora? Lei non lo sa. E nemmeno le altre. Da quando uso Claire con la forfora ho chiuso. Shampoo Claire funziona contro la forfora regolarmente. Frendi. Un film per chi ha sete di novità. Ma chi è Frendi? È Frendi una frizzante bellezza da spiaggia? È Frendi una magnifica preda tutta naturale e poco alcolica? È Frendi una ricercata speciale da mettere al fresco? Frendi è tutto questo e molto di più. Frendi è buona da non credere. Nuova da non perdere. Scopri a Piri. La nuova fresca profumazione di Badedas Parfum Deodorant. Vivi sano. Bevi bene. Esta te. Senza bollicini. Esta te. Raid li ammazza stecchiti. Areare il locale prima di soggiornarvi nuovamente. Mamma! Mamma l'aquilone! Guarda! Oh, che peccato. Sai, lui si macchia sempre e io devo candeggiare. Ma tu sbagli candeggio. Io uso acce e guarda la mia camicia. La candeggio sempre con acce. E dopo tanti anni è ancora perfetta. Perché acce smacchia a fondo e senza danno. Ace smacchia a fondo senza strap. Anche con fresco profumo. Come mangia una persona come Barbara? Come tutti. Ma nella mia dieta non mancano mai le compresse di Cruscalvius. Cruscalvius è crusca dietetica di solo frumento. Cruscalvius, un aiuto naturale per controllare il peso. Cruscalvius compresse dall'esperienza Giuliani. È perché sono naturali che mangiamo i Kellogg's Corn Flakes tutti insieme. Kellogg's Corn Flakes, gli originali. Cambia faccia alla prima colazione. Avanti all'attacco! Ogni anno le zanzare arrivano a turbare la tua pietra. Rispondi ai malefici insetti con raid, mosche e zanzare. Raide, mosche e zanzare li ammazza stecchiti. Areare il locale prima di soggiornarvi nuovamente. Nei momenti più duri e impegnativi, quando è indispensabile la massima concentrazione, bisogna essere in piena forma. Per questo, fin dal mattino, è importante alimentarsi bene. Nutella è con te. Con tutta l'energia del latte e delle nocciole. Con tutta la sua bontà. Pane e Nutella. Energia per fare e per pensare. Ciao! Vi ho portato una novità! Spriller! Super! E' un giardino iconico! Oh wow! E' più unic! Welcome Spriller! New! 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 Questa sera, 20 e 30, Supercopter. Di seguito, Starman. Dalle stelle, il massimo, Supercopter e Starman. Questa sera, a partire dalle 20 e 30, su Italia 1. Amico, stammi lontano almeno un palmo. Domani sera, alle 20 e 30, su Italia 1. Ma, ma, ma cos'è? Matto, matto e ketchup crack. Patatine che fai? Con tutto così. Matto, matto e ketchup crack. I patine ti fai? Matto, 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 matto e ketchup crack. Ciao, amici! Sapete cosa beviamo qui a Chattanooga, Tennessee? Quando il sole ti spacca il quattro? Non si sbaglia! Una brocca di acqua ghiacciata e tutto il gusto di Lipton Ice Tea. Hey gang! Lipton Ice Tea! Great idea, Dan! Lipton Ice Tea! Fenomenale! Axe, il primo eau de toilette teodorant per l'uomo. Oggi, Axe Spice, il fascino di una nuova fragranza. Axe, laissez le charme agire. Maxi Cono, Maxi Stecco, Maxi Cap. Solo Motta e Maxi. Sabato su Italia 1 continua il grande incontro Wrestling A-Team. I grandi campioni del Wrestling, le grandi avventure dell'A-Team. Sabato sera, Italia 1 fa spettacolo con Wrestling A-Team a partire dalle 20.30. Buongiorno! Quando sarò grande un bacio un bacio ti darò. Grazie a tutti. Tutta l'Italia fa zlurro. Immagina un deodorante tutto naturale. Naturale nei suoi componenti purissimi. Naturale nell'erogazione. Immagina natural deodorant. Un nuovo gesto d'amore da Atkinsons. Gesti d'amore. Salve ragazzi. Stai uscendo eh? Da cosa l'hai capito? Stragone negro. Lunedì sera. Scegli la simpatia. Vivi l'avventura. Segui l'azzurro con Magnum P.I. e Downtown. A partire dalle 20.30 su Italia 1. Il mio bimbo è Chiotto Chiotto. Una famona da lupacchiotto. Pappe e milupa pronte al momento. Così sane per lo svezzamento. Che pappa buona la mangia tutta. Latte, cereali, verdura o frutta. Ben 20 pappe e sei sicura? Hai scelto milupa e la natura. Ancora lì? Ah, il mio Clare ha la porfora. Io? Mi piace come lascia i capelli. Ah. Comunque da quando uso il tuo Clare, porfora non ne ho più. Shampoo Clare funziona contro la forfora regolarmente. New. Fruit and Fruit Alcida. La frutta ha rotto il ghiaccio. Give me love, give me love and sunshine. Fresh and cool like a sweet desire. Give me more, give me really emotions. Fruit and kisses from my lips on fire. Un vero sorbetto di frutta. Fruit and Fruit Alcida. Give me love, give me love and sunshine. Selling me on and let me taste the fruit I love. Fruit and Fruit Alcida è una sprodotto di frutta ghiacciata. Scopri la speciale estate di TV sorrisi e canzoni. E questa settimana la valigia delle vacanze, i test, l'oroscopo e i racconti gialli. Vinci bellissimi gioielli con il cruciverbone e cento milioni in gettoni d'oro con Corrado. Che estate con sorrisi. Tra pochi istanti i cugini Bo e Luke concluderanno le loro sfrenate corse nella Contea di Hazard. Subito dopo gli inseparabili chips e alle 20 il cartone animato, tutte per una, una per tutte, le piccole donne di Italia 1. Dalle 20 e 30 vi proporremo alcuni film. Amico, stami lontano almeno un palmo. Un western interpretato da Giuliano Gemma. Seguirà un horror film, Alligator, e al termine un film di guerra, Operazione Corea, a più tardi. Cosa ci vuole per pulire questo unto di ieri? La polvere o la crema? La polvere, perché è forte contro lo sporco, anche se a volte può graffiare. La crema, perché non graffia, anche se a volte non pulisce fino in fondo. Ma oggi, forza e delicatezza, sono unite in una super crema. Mastro Lindo Sì, nuovo Mastro Lindo Super Crema, alla forza dei solventi, che sciolgono l'unto, senza graffiare. Che pulito! È veramente forte come una polvere. E neanche un graffio! È delicato come una crema. E che pulito! Splende tanto che mi ci vedo! Nuovo Mastro Lindo Super Crema. Tanta forza, niente graffi, smalto acciaio, fabbriare. Sì! Un aperitivo! Un vino rosè! Freschissimo! Io voglio un vino leggero, schizzicante! Eh, cosa bevi tesoro con gli scampi? Bianco o rosè, ma che sia frizzantissimo! Allora per tutti, Lancers! Lancers, il vino, non solo vino! Ehi, cerca la giusta rotta e potrai vincere anche tu! Ha ha! Vacanze a Hong Kong e a Rio de Janeiro! Lancers, importato da Portugal! Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! Arredamenti a Ventino vinci la guerra dei prezzi! Edizione straordinaria! Edizione straordinaria! Arredamenti a Ventino, prezzi da notizia! Ci vorrebbe un buon bianco, ma leggero! Castellino, quello leggero! Castellino, bianco, rosso, rosato! Tip-tap, tip-tap, push! Top, flop, flop, swing, zip, block! Foo-tlen, star! Tip-tap, zi-zap, strap, poing! Tric! C'è Baruffa nell'aria! Baruffa o The Toilette, di Atkinsons! Time of the world! Time, time, time of the world! E' bella una testa castana, ma il castano anche qui, ecco il problema! Ed ecco la soluzione nuova, Billy Roll-On, che fonde la cera a bassa temperatura e consente applicazioni rapide, uniformi, senza scottature. Sistema Billy Roll-On, cera e crema, e sei castana solo dove sta bene. Mamma, avrei invitato qualche amico pranzo! Giorno! Giorno! Qui ci vuole un'idea in più, riso più polli, per un'insalata di riso alla grande. Ragazzi, a tavola! Riso più al tonno al Wüstel, un'idea genuina polli. Ti stai preparando a conquistare Parigi? Certo, perché? Hai cambiato profumo. Non è un profumo, è il mio nuovo Kamai Chic. Mi aiuti? Con un sapone così bello. Bello e unico, contiene glicerine. Senti, che carezza morfida. Morbida, come la tua pelle. Parigi ci aspetta. Lasciamola aspettare. Kamai Chic, quel pizzico di fascino, in più. Oggi Kamai è classico e chic. Giorno! Giorno! Grazie. Cose buone dal mondo. Martedì, alle 20.30, su Italia 1, i Robinson. Robinson, chi parla? Devo parlare con papà o con mamma? Vuoi un po' di soldi? E subito dopo, alle 21.30, le nuove avventure di Denise. Ti serve qualcosa? Qualcosa? Che cosa? Ho telefonato per dirvi che vi voglio bene e mi mancate. C'è un'interferenza. I Robinson e Denise. Martedì, a partire dalle 20.30, su Italia 1. Cosa si beve a un party un po' magico? Ricard, fresco, insolito, magico londrino. Ricard, acqua, ghiaccio. Il gioco è fatto. Provalo con la menta, con l'aranciata, con la bibita che preferisci. Bevilo quando vuoi qualcosa di speciale. Ricard, fresco, insolito, magico londrino. Montone? Ah, ciao! Sì, certo! Chi è? A me e Paola vengono qui. Andiamo a comprare qualcosa. Sei tutto chiuso. Perché non prepariamo semi-freddo canneo? Che idea! Ciao! Ciao! Allora, venite, venite, ragazze. C'è una sorpresa. Ma non basta. C'è il tocco finale. È ancora più cremoso. È più morbido. Piccola, questo è il nuovo cameo semi-freddo. Ancora più cremoso. Prima un brivido giù. Poi un brivido su. Poi un brivido su. Here he comes, let the good times start. Here comes excitement, there goes my heart. I can taste the feeling, la grande menta sacco. I can taste the feeling, here he comes, there we go. Here comes the feeling, menta sacco. Mercoledì alle 20.30, appuntamento con il nostro amico verde, l'incredibile Hulk, la forza, la tenerezza. Di seguito, MacGyver, la genialità, il brivido del pericolo. L'incredibile Hulk è MacGyver, mercoledì a partire dalle 20.30 su Italia 1. Here he comes, let the good times start. Here comes excitement, there goes my heart. I can taste the feeling, la grande menta sacco. I can taste the feeling, here he comes, there we go. Here comes the feeling, menta sacco. Time of the world, time, time, time of the world. Benetton by Bullard. Lavarsi i denti posteriori con un normale spazzolino non è sempre facile. Ci vuole Gibbs Technic. È curvato una, due, tre volte alla testina anatomica per arrivare dove più spesso si formano le carie, dove normalmente è più difficile arrivare. Gibbs Technic. La sicurezza di arrivare fino in fondo. Ti voglio sposare, ma... Ma vuoi aspettare un po'? Sì, fino... Fino a quando? Beh, io pensavo... Sabato prossimo. Sabato prossimo? Ti sembra troppo. I'm a plan. 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 Grazie a tutti.